Pescara Picerno, ultimo atto del girone di andata, fatto eccezione per l'infortunato Plizzari, rimpiazzato da Sommariva, Colombo conferma la squadra schierata a Monopoli, Giabua, Aloi e Mora in mediana, Craia riparte dalla panchina, davanti Guppone e De Sogus a supporto di Vergani, Lucani con diverse assenze, De Ciancio per la squalifica, Golfo, Finizio, Albadoro e Pitarresi causa infortunio, non al meglio Reginaldo e Capitano Esposito cominciano dalla panchina, la novità è Setola, debutto in campionato per il classe 99, ex Casertano, esterno alto nel 4-2-3-1, dall'altra parte Massimo D'Angelo, abruzzese di Lanciano, ex Giulianova, tra le linee Cuda che piace al Pescara, alle spalle di Diop, un minuto di raccoglimento per onorare la memoria di Sinisa Mijailovic. Partono le immagini, queste sono le fasi salienti della partita, Pescara molto spento soprattutto nel primo tempo, involuto sotto ritmo, c'è questa prima conclusione. Si fa per dire, il tentativo di De Sogus, la palla viene ricacciata fuori aria dai difensori della squadra di Emilio Longo, inquadrata la tifoseria della Curva Nord, c'è un lungo lancio di De Franco, scivola Milani e poi il pallone termina a fondo campo, stava per credere Setola, vaglia numero 99, ripetiamo, al debutto in campionato era fuori lista, poi è stato reintegrato, abbiamo ascoltato anche dal tecnico Emilio Longo in questi giorni. Sbaglia Milani, c'è l'opportunità per D'Angelo che ignora Pagliai, Pagliai che aveva rubato palla in pressing al giocatore del Pescara e questa è una chiara occasione da gol, non sfruttata dalla formazione del Picerno. Poi ancora Pescara con De Sogus che sembra quello un po' più ispirato, si fa per dire perché la partita è stata giocata male soprattutto dal Pescara dal punto di vista proprio tecnico, il tiro altissimo abbiamo visto proprio in questo momento. Comincia il secondo tempo, qualcosa di meglio da parte di Biancazzuri, soprattutto dal punto di vista dell'atteggiamento più aggressivo, qui è la conclusione Vergani che però non trova la porta su cross di Cancellotti. Da destra poi Cuda che ha giocato molto bene tra le linee in sostituzione di Reginaldo, il fallo da rigore di Delle Monache è entrato in corso d'opera, i danni di Massimo D'Angelo, Delle Monache che a stavolta non vediamo l'azione, aveva perso palla in fase di impostazione sulla fascia, gli aveva soffiato il pallone proprio D'Angelo e poi nello sviluppo c'è l'ingenità di Delle Monache che commette l'infrazione, insomma mi pare che non ci siano proprio dubbi, l'arbitro è lì a due passi, indica il dischetto, ci sono le proteste da parte della classe 2005. Sul punto di battuta la Bruzzese di D'Angelo, Massimo D'Angelo che spiazza, sommariva, 1-0 Picerno, siamo al diciottesimo della ripresa, sarà il gol partita e questo è un gol importante per questo ragazzo che ha militato nel Giulianova in C2 nel 2010-2011, ma anche in Serie D, nella Tessa Val di Sangro e nel Sulmona, dunque una grande soddisfazione allo stadio adriatico Giovanni Cornacchia per il classe 90, 32 anni per Massimo D'Angelo che ha giocato in C, anche nella Fermana. Il Pescara prova a reagire, nel frattempo Emilio Longo si mette a 5 dietro, c'è questo colpo di testa di Brosco che viene allontanato sulla linea da Garzia, era fuori causa il portiere Crespi che si era tra l'altro scontrato col difensore centrale Biancazzurro. Non c'è altro, a Pescara Picerno batte Pescara 1-0, quarta sconfitta in campionato all'adriatico Giovanni Cornacchia per i Biancazzurri, la terza consecutiva. Grazie a tutti.